E così il Regno Unito è finalmente riuscito a concludere l'epopea Brexit. Beh, non proprio, ma ci arriveremo. Infatti in questo video l'obiettivo è quello di riassumere un po' tutta questa storia, durata ben 4 anni e piena di insidie, colpi di scena e bette che hanno raggiunto addirittura il ridicolo o la farsa. Ma in tutta questa storia vorrei che fosse ben chiara una cosa, e cioè che Brexit è stata semplicemente una battaglia ideologica, niente di più e niente di meno. L'obiettivo di Brexit era quello di dire noi siamo il Regno Unito e facciamo il caso che ci pare. Oppure, come dicono quelli bravi, la cosiddetta Splendid Isolation, che era una politica estera introdotta soprattutto verso la fine del 1800, dove era pratica comune del Regno Unito quello di non appunto costruire accordi esteri con altre nazioni e concentrarsi sulla fortificazione dell'impero e del suo Commonwealth. Se è vero che questa Splendid Isolation è stata una politica fondamentale soprattutto verso la fine del 1800, beh, probabilmente è rimasto come ideale nei cuori dei britannici anche nel 1973, anno in cui il Regno Unito entrò nella Comunità Economica Europea, che poi divenne l'Unione Europea. Molti degli osservatori giustificano questa entrata da un punto di vista economico più che di condivisione degli ideali europei. Infatti a quel tempo il Regno Unito stava crescendo ad un tasso di crescita inferiore rispetto ai sei paesi fondatori della Comunità Economica Europea. E quindi per paura di rimanere indietro il Regno Unito decise di entrare in questa Comunità Economica Europea. Il bello è però che due anni dopo, col cambio del governo, il Regno Unito decise di fare un referendum. Nel 1975 il Regno Unito decise di aprire un referendum per decidere se rimanere o ritirarsi dalla Comunità Economica Europea. Il 26 aprile 1975 il 62% dei britannici decise di rimanere all'interno della Comunità Economica Europea. Però nonostante questa vittoria i malcontenti continuarono da lì in poi fino alla famosa Brexit del 2016. Sostanzialmente l'atteggiamento del Regno Unito nei confronti dell'Unione Europea è un po' tipo un adolescente. Possiamo entrare? No. Possiamo entrare? No. Possiamo entrare? Ah, va bene. Ah, ma lo sai che forse ci stiamo ripensando? Ma come? Ma sì, dai, facciamo un referendum, vediamo cosa dice il popolo e decidiamo. Ah, ma sai che ti dico? Rimaniamo, dai, va bene. Ah, guarda, c'è un problema. Ti diamo troppi soldi. Ma come, signora Thatcher? Era lei la prima a difendere il Remain al referendum del 75 e adesso si sta lamentando? Beh, sì, paghiamo troppo. Facciamo che ci date qualche sconto, eh? Va bene. Signora Thatcher, noi stavamo pensando di fare una Europa federale. E invece noi mi sa che stavamo pensando di fare una Europa fatta verso una cooperazione sul commercio? Che ne dite? Allora, Gran Bretagna, noi vorremmo diventare un'Unione Europea grazie al Trattato di Maastricht. Che fa? Lo firma? Eh, ma sai che ti dico? Lo firmo. Però vorrei qualche deroga. Insomma, un trattamento di favore, eh? Europa, sai che ti dico? È stato bello, ma noi ce n'andiamo. Come adolescenziale è stata la campagna sul referendum del 2016, fatta di fake news, false promesse e atteggiamenti populisti. Insomma, un po' lo standard ormai odierno. Sostanzialmente l'idea dei Leavers, cioè quelli che volevano lasciare l'Unione Europea, era basata su due principi fondamentali. E cioè sull'immigrazione. Pensavano che l'Unione Europea favorisse l'immigrazione e quindi togliere i posti di lavoro ai britannici in favore di altre persone non britanniche. E la seconda idea era quella dei soldi. E cioè che l'Unione Europea toglieva soldi dalle casse dello Stato e questo comportava dei svantaggi alla crescita economica del Regno Unito. E così, alla fine, il Regno Unito, il 23 giugno del 2016, decise di lasciare l'Unione Europea. Probabilmente il primo impulso a Brexit fu nel 2014, quando durante le elezioni del Parlamento Europeo, l'UKIP, e cioè il Partito per l'Indipendenza del Regno Unito, ebbe un grande successo. E questo partito fu capitanato da Nigel Farage. Il sole è riuscito su un Regno Unito Unito. Per riassumere la tortuosa storia di Brexit, farò uso di una infografica fornita dalla Commissione Europea. Come al solito vi lascio il link in descrizione. Siamo al 23 giugno del 2016 e il Regno Unito ha deciso, con il referendum, di lasciare l'Unione Europea. Di lì a poco, l'allora presidente, David Cameron, decide di abbandonare la nave, e in favore di Theresa May. Sì, credo che sia difficile andare a vacanze. Sì, credo che sia difficile. Io amo i miei vacanze. Tralasciando queste questioni di importanza internazionale, arriva il 29 marzo 2017, dove il Regno Unito attiva ufficialmente l'articolo 50, che gli permetterà di uscire dall'Unione Europea. Da qui si attivano due anni di trattative, entro le quali devono essere conclusi tutti gli accordi, in modo che il Regno Unito possa uscire dall'Unione Europea. Una vera e propria novità arriva solo un anno e mezzo dopo, rispetto al 29 marzo 2017. Nel frattempo le trattative vanno avanti, Theresa May affronta un'elezione parlamentare che vince a malapena, e non si fa mancare un balletto cringe che rimarrà alla storia. Mamma mia che cringe! Comunque, dicevamo, il 14 novembre 2018, Unione Europea e Regno Unito riescono a trovare un accordo per il cosiddetto Withdrawal Agreement, cioè l'accordo di ritiro del Regno Unito nei confronti dell'Unione Europea. E quindi cosa ci manca? Beh, il consenso dei 27 Stati Europei e il consenso del Parlamento Britannico. Il primo arriva il 25 novembre 2018, il secondo, beh, non arriverà mai. Per ben tre volte il Parlamento Britannico rifiutò l'accordo raggiunto da Theresa May, precisamente a gennaio e due volte a marzo. Nel frattempo divenne famosa una parola in particolare. Order! 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 Nel frattempo il Consiglio Europeo allunga la scadenza delle trattative fino al 31 ottobre 2019, mentre Theresa May, a maggio, in lacrime, lascia il ruolo di primo ministro per Boris Johnson. Così è tutto da rifare e un nuovo accordo tra Regno Unito e Unione Europea si troverà solo il 17 ottobre 2019 e qualche giorno dopo si decise anche di prolungare il periodo di transizione che all'inizio doveva durare due anni dal 30 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2020. Il 30 gennaio 2020 avviene la ratifica dell'accordo tra Regno Unito e Unione Europea, mentre il 1 febbraio 2020 il Regno Unito lascia ufficialmente l'Unione Europea. In realtà dal 1 febbraio 2020 sono solo uscite le istituzioni del Regno Unito e dell'Unione Europea, invece i diritti e i doveri del Regno Unito nei confronti dell'Unione Europea sono stati mantenuti fino al 31 dicembre 2020. All'interno di questo accordo raggiunto e ratificato finalmente il 30 gennaio, che prende il nome di Withdrawal Agreement, ci sono tutta una serie di norme affinché il Regno Unito possa lasciare l'Unione Europea in modo ordinato, tra cui ad esempio garantire dei diritti degli cittadini europei e del Regno Unito nei rispettivi territori o anche non creare delle conseguenze disastrose per quanto riguarda i confini tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Tra l'altro per raggiungere questo accordo ci sono state non poche tensioni, tra chi voleva l'hard Brexit, chi voleva la soft Brexit, un primo ministro saltato per aria, la Scozia che non poche volte ha minacciato il Regno Unito di lasciare il Regno per ricollegarsi nuovamente all'Unione Europea, i giovani che volevano rimanere all'interno dell'Unione Europea mentre gli anziani erano più favorevoli a lasciarla, le città come Londra che era fortemente favorevole all'Unione Europea, gente che voleva fare un secondo referendum sperando di annullare Brexit. Insomma, la confusione ha fatto da padrone per quanto riguarda tutto questo tempo. Inoltre in questo accordo manca tutta la parte di accordi commerciali e di accordi di cooperazione tra le due parti. Infatti il Regno Unito e l'Unione Europea si sono dati tempo fino al 31 dicembre 2020 per raggiungere tutti questi patti. Così il 24 dicembre il Regno Unito è riuscito a trovare degli accordi commerciali con l'Unione Europea. Ma perché per le nazioni è così importante avere degli accordi commerciali? Ora, questa cosa ve la spiegherò in maniera abbastanza banale, però è un concetto abbastanza condiviso dalla maggior parte degli economisti. Se io devo commerciare con un'altra persona, più le regole sono semplici e di facile comprensione e più non ci sono delle barriere come ad esempio dei dazi, delle tariffe eccetera eccetera, più io con questa persona avrò facilità nel commerciare, più il mio commercio sarà frequente e quindi più ci sarà la possibilità di arricchirsi a vicenda. Quindi più crescita economica. Prassi infatti che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è stata seguita dalle principali economie europee e non anche mondiali. Infatti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale le politiche commerciali sono diventate sempre più favorevoli al commercio internazionale e sempre i dazi si sono abbassati sempre di più. E questo ha favorito la crescita economica mondiale. Quindi più due paesi hanno delle interconnessioni economiche e più si dovrebbe favorire queste interconnessioni abbassando il più possibile tutte le eventuali barriere che ci possono essere al commercio. Quindi per capire quanto gli accordi commerciali tra Unione Europea e Regno Unito siano importanti bisogna capire quanta è l'interconnessione tra le due economie. Beh, basti pensare che su tutto l'export del Regno Unito nel mondo il 43% è da parte dell'Unione Europea mentre di tutto l'import del Regno Unito il 52% viene dall'Unione Europea. Quindi stiamo parlando di due economie estremamente connesse e dei dazi o comunque delle altre complicazioni commerciali greverebbero molto sull'economia non solo del Regno Unito ma anche europea. Un esempio è quello che è successo verso la fine del 2020. Infatti nelle ultime settimane del 2020 per una paura di un non raggiungimento di un accordo per Brexit e anche per un innalzamento delle frontiere a causa della propagazione all'interno del Regno Unito di un nuovo ceppo di coronavirus beh, ci sono stati non pochi problemi per il trasporto delle merci infatti non so se avete visto le immagini riguardo dei tir che occupavano degli interi aeroporti all'interno del Regno Unito proprio perché avevano difficoltà a oltrepassare le dogane. In questo periodo di tempo in cui ci sono stati questi problemi che in qualche modo simulavano un hard Brexit quindi una Brexit senza riuscire a raggiungere un accordo commerciale si è visto in un articolo di Bloomberg hanno dimostrato come i costi di trasporto in quei giorni è quadruplicato quindi i beni trasportati da Unione Europea al Regno Unito e viceversa potevano costare anche quattro volte di più rispetto al normale e questo ovviamente ha degli impatti nei consumatori che diminuiscono il loro potere d'acquisto e di conseguenza anche la crescita economica potrebbe essere molto danneggiata. Di nuovo per farvi capire l'importanza di avere degli accordi commerciali tra due nazioni soprattutto quando queste nazioni sono fortemente collegate con un eventuale hard Brexit quindi senza accordi commerciali determinati beni si sarebbero dovuti scambiare tramite degli accordi internazionali e cioè tramite la WTO, il World Trade Organization e quindi ad esempio prodotti come la carne, il maiale o i latticini avrebbero avuto delle tariffe pari al 50% superiori le macchine inglesi per noi sarebbero costate il 10% in più oppure ancora il pesce inglese sarebbe costato il 25% in più oppure ancora i prodotti tessili o l'abbigliamento avrebbe raggiunto un incremento di costo pari al 12% o al 17% proprio a causa di queste tariffe che vengono imposte perché non c'è un accordo commerciale tra le due parti quindi di nuovo anche qui spero che vi abbia dimostrato quanto degli accordi commerciali siano fondamentali e quanto un hard Brexit avrebbe comportato numerosi problemi economici da entrambe le parti con la Brexit sostanzialmente il Regno Unito è uscito dal mercato comune europeo che si basa su quattro libertà la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali quindi noi andremo a vedere cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020 con Brexit andando ad analizzare ogni singola libertà e vedendo qual è la differenza tra i rapporti tra le nazioni all'interno dell'Unione Europea e i rapporti tra Unione Europea e Regno Unito partiamo dalle merci le merci all'interno dell'Unione Europea sono scambiate con zero tariffe doganali e con degli accordi comuni quindi il commercio tra le nazioni appartenenti all'Unione Europea è molto semplice e facilitato con l'accordo raggiunto il 24 dicembre si è deciso che non ci saranno tariffe tra doganali tra Regno Unito e Unione Europea quindi sostanzialmente simulando un Regno Unito che è ancora dentro all'Unione Europea nonostante questo che comunque favorisce lo scambio di merci tra le due parti e qui vorrei focalizzare il punto riguardo alla battaglia più ideologica che economica riguardo la Brexit se infatti fosse stato un problema anche economico sicuramente il Regno Unito si sarebbe impuntato per la creazione dei dazi commerciali cosa che in realtà non è avvenuta oltre a questo però in realtà il commercio non sarà più quello di un tempo infatti il Regno Unito dovrà rispettare determinati standard per poter commerciare con l'Unione Europea e se è vero che non ci saranno tariffe doganali comunque i controlli alla dogana per quanto riguarda le merci scambiate tra le due parti ritornerà comunque in vigore cosa che in realtà prima non c'era quindi diciamo che si è raggiunto un accordo molto favorevole ma mai paragonabile a delle nazioni appartenenti all'Unione Europea per quanto riguarda la libera circolazione delle persone in realtà non se ne è parlato nell'accordo raggiunto il 24 dicembre in quanto questo è stato un tema di discussione nel Withdrawal Agreement di cui abbiamo parlato in precedenza riguardo questo accordo sostanzialmente fino ad ottobre per entrare nel Regno Unito basta la carta d'identità mentre da ottobre in poi se devi rimanere nel Regno Unito meno di 90 giorni hai bisogno del passaporto mentre per un soggiorno superiore ai 90 giorni hai bisogno anche di un visto per rimanere all'interno del Regno Unito inoltre anche la politica di immigrazione è diventata molto più complessa in quanto appunto la libera circolazione delle persone è andata meno quindi per poter andare a lavorare, studiare o fare i fatti tuoi nel Regno Unito in maniera stabile devi rispettare dei requisiti imposti dal Regno Unito sostanzialmente è una tabella in cui ci sono a disposizione 100 punti un po' come un test di ingresso in medicina ci sono 100 punti che puoi raggiungere e per poter accedere al Regno Unito devi raggiungere almeno 70 punti di questi 100 punti disponibili le metriche sono il grado di istruzione, la ricchezza, cosa andrei a fare nel Regno Unito eccetera 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 vi lascio il link in descrizione se volete approfondire quindi il tutto diventerà molto più complesso inoltre il Regno Unito si è anche tolto dal programma Erasmus quindi anche lì gli studenti che vorranno fare delle esperienze di formazione nel Regno Unito sarà molto più difficile Boris Johnson ha promesso che ci saranno nuovi programmi che potranno permettere agli studenti europei di poter accedere all'università inglesi però ovviamente tutto ciò sarà molto più difficile è anche molto più costoso da poter permettersi rispetto al programma Erasmus che è una politica estremamente accessibile e formativa per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi anche qui le cose diventeranno abbastanza più complesse rispetto a prima se infatti io mi lauro in Medicina e posso praticare la professione in tutte le nazioni europee con Brexit in realtà non posso più andare a praticare la professione in maniera istantanea bensì devo rispettare determinati requisiti per spendere la mia professione discorso ovviamente che equivale anche per i cittadini del Regno Unito che vogliono fare gli ingegneri, i medici o i veterinari all'interno dell'Unione Europea non possono più andare in maniera automatica a spendere la loro professione ma per ogni nazione, soprattutto il problema è da parte loro per ogni nazione devono rispettare determinati requisiti per poter accedere per l'appunto a praticare la professione quindi di nuovo anche qui la libera circolazione dei servizi diventa molto più complessa per quanto riguarda i servizi finanziari e di conseguenza anche la libera circolazione dei capitali anche qui l'accordo raggiunto il 24 dicembre non è abbastanza preciso nel merito infatti le disposizioni sono soprattutto derivanti dal withdrawal agreement raggiunto a inizio 2020 e sostanzialmente ci saranno ulteriori accordi che dovranno prendere il Regno Unito e l'Unione Europea per fare in modo che i servizi finanziari e la libera circolazione dei capitali possa avvenire in maniera ordinata anche se le previsioni sono che anche qui non ci sarà più una vera e propria libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari come c'era prima di Brexit anche perché molte delle compagnie inglesi hanno già ritirato determinati i propri servizi finanziari in determinate nazioni europee però sostanzialmente per i servizi finanziari ci sarà da attendere per vedere ulteriori accordi proprio in questo senso e qui ritorniamo al discorso di prima Brexit è avvenuta ma non proprio oltre a questo argomento dei servizi finanziari che sicuramente verranno approfondito con ulteriori accordi che dovranno ancora essere presi in realtà l'accordo del 24 dicembre è un accordo provvisorio perché non è stato ancora ratificato dal Parlamento europeo che dovrà farlo in teoria entro fine gennaio quindi in realtà ancora Brexit non è avvenuta ufficialmente e in più essendo i rapporti commerciali e non solo commerciali ma come abbiamo visto anche tra persone, servizi, merci eccetera eccetera molto fitto e complicato tra Regno Unito e Unione Europea sostanzialmente da qui in poi ci saranno ulteriori accordi che andranno a modificare e a limare tutte le disposizioni generali che si sono raggiunte fino ad adesso quindi in realtà Brexit ancora non è che è stata veramente conclusa l'ultimo giorno utile per raggiungere un accordo era fissato al 31 dicembre 2020 e l'accordo è stato raggiunto solo il 24 dicembre quindi solo qualche giorno prima rispetto alla scadenza ultima ma perché tutti questi ritardi? beh perché le discussioni si sono incentrate soprattutto riguardo a tre argomenti il primo riguarda il cosiddetto level playing field e cioè delle regole comuni da applicare alle aziende sia europee che del Regno Unito in modo da non creare una concorrenza sleale e quindi la paura dell'Unione Europea in particolare era quella che il Regno Unito potesse aiutare le aziende tramite dei sussidio o dei finanziamenti in modo da creare una vera e propria concorrenza sleale nei confronti delle aziende europee l'altro tema di discussione era quello riguardo il meccanismo di risoluzioni per eventuali controversie infatti se una delle due parti non avesse rispettato l'accordo l'Unione Europea voleva che la Corte di Giustizia Europea dovesse intervenire invece il Regno Unito voleva che in realtà ci fosse una parte indipendente imparziale rispetto alle due controparti alla fine l'ha avuta la meglio il Regno Unito infatti si è deciso che ci sarà una commissione esterna a giudicare se entrambe le parti stanno rispettando effettivamente gli accordi intrapresi l'ultima discussione che fa anche un po' ridere riguarda l'accesso dei pescatori europei alle acque britanniche sostanzialmente per molto tempo l'accordo su Brexit si stava traballando a causa dei merluzzi ebbene sì il mercato della pesca che per quanto riguarda non solo l'Unione Europea ma il Regno Unito è un settore estremamente marginale stava rischiando di far crollare tutta una serie di accordi commerciali che avevano una natura economica molto superiore rispetto al settore della pesca sostanzialmente anche qui e ci tengo a specificarlo era né più e né meno una battaglia ideologica il punto del Regno Unito era quello di voler riappropriarsi delle acque inglesi e essere sovrana delle proprie acque inglesi e quindi decidere se e quanto far accedere ai pescatori europei all'interno delle acque del Regno Unito sostanzialmente dopo innumerevoli discussioni che non riesco a riassumermi in questo video si è raggiunto un accordo di compromesso quindi all'interno nell'arco di cinque anni l'Unione Europea avrà sempre meno accesso alle acque del Regno Unito per poter pescare i pesci del Regno Unito e tutto ciò è fantastico come vi dicevo ideologia sovranismo e possibilità di imporre le proprie leggi nulla di più e nulla di meno per concludere la mia previsione riguardo tutta questa storia è che nel futuro man mano tutti i punti economici si avvicineranno sempre di più a una situazione pre-Brexit perché banalmente conviene ad entrambe le parti raggiungere degli accordi il più possibili semplici ed efficienti e con costi sempre minori quindi diciamo che appunto di fatto Brexit è stata solo e semplicemente una battaglia ideologica guardiamo all'appunto dell'immigrazione guardiamo al punto dei soldi che non solo in questo momento ma anche negli anni, negli anni 80 eccetera eccetera sono sempre stati un punto di forza del Regno Unito per lamentarsi nei confronti dell'Unione Europea prendiamo anche il punto della pesca che sostanzialmente è un settore economico super marginale all'interno del Regno Unito ma che ha rischiato di far crollare gli accordi su Brexit sostanzialmente sì si tratta tutto di una questione ideologica del Regno Unito che dice noi siamo un'isola e vogliamo fare il cato che ci pare detto ciò spero di avervi fatto un buon riassunto di tutto quello che è successo vi lascio il link in descrizione per approfondire è tutta una cosa fatta molto carina con Excel vi do tutte le fonti belle chiare e vi lascio al prossimo video di Whatsapp Economy e vi saluto alla prossima e vi saluto